Assessore Berrino, Ventimiglia, non solo Ventimiglia, tutta la Liguria con il rinnovo dei centri per l'impiego, un rinnovo sia sul piano visivo che sul piano organizzativo? Assolutamente sì, oggi a Ventimiglia abbiamo consegnato la chiave del cantiere all'impresa che ha vinto l'appalto per i lavori di Ventimiglia, ma l'abbiamo consegnata qua perché oggi è il primo cantiere che parte in tutta la Liguria, di un grande progetto del valore di circa 9 milioni e 800 mila euro, fondi governativi che sono arrivati per la ristrutturazione dei centri per l'impiego di tutta la regione. Ventimiglia è il primo, mi fa molto piacere essendo qua nella riviera dei Fiori, ma anche essendo il primo geograficamente partendo dal confine francese. Naturalmente la ristrutturazione degli spazi, che sarà il layout, gli impianti, gli impianti tecnologici, il mobilio, fa da pari con la ristrutturazione del personale che è già avviata, ma che finirà entro l'anno con l'assunzione di ulteriori persone riservate alla provincia di Imperia che garantiranno al centro per l'impiego, oltre che una nuova veste geografica dove poter lavorare meglio, ma dove l'utente si trova in un posto moderno dove andare a sbrigare le sue pratiche e a cercare lavoro, permetterà di espletare tutte quelle pratiche che toccano per legge al centro per l'impiego e anche le pratiche di Gol, che è un grande progetto di occupabilità dei lavoratori, 14.500 in tutta la regione, un valore di oltre 100 milioni di euro provenienti al PNRR, che daranno molto lavoro dal punto di vista materiale ai centri per l'impiego, ma che sarà una grande opportunità per quelle lavoratrici e quei lavoratori che vorranno rendersi occupabili in attesa appunto di un posto di lavoro. Lei ha parlato di questo progetto a Ventimiglia e di tutta la Ligua, a Ventimiglia si spenderanno circa 200 mila euro e ci sarà un aumento importante anche dei dipendenti. Sì, quando poi restituiremo i locali rinnovati al centro per l'impiego, i dipendenti se ne verranno da 10 a 17, quindi con un buon incremento, ma naturalmente questo incremento dovrà sopportare e supportare tutte quelle persone della zona di Ventimiglia e acquifarimento del centro per l'impiego appunto che dovranno essere contattate e far parte del progetto GOM.